Salve a tutti, sono Giampiero De Luca, faccio giornalista, professionista da molti anni, mi occupo di criminalità organizzata, di problemi ambientali, sono tra i cofondatori dell'associazione Pensare e Fare assieme al presidente Salvatore Polizzi. In tutti questi anni abbiamo girato molti documentari su materie abbastanza problematiche del nostro paese, quindi dell'Italia, partendo dalla criminalità organizzata fino ad arrivare a uno dei problemi che più attanaglia non solo la terra, quindi il mondo, ma soprattutto il nostro paese, quindi problemi ambientali. Occupandoci di ambiente, questa volta per il nostro pubblico cercheremo di proporre un documentario particolare. Il Mar Piccolo è un bacino idrico interno della città di Taranto, con un importante valore storico, naturalistico ed economico. Nonostante accanto al Mar Piccolo siano presenti siti altamente inquidanti per la città, questi bacini conservano ancora oggi un vero e proprio paradiso di biodiversità. Supporti al nuovo documentario di Pensare e Fare sul Mar Piccolo di Taranto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!